allora sono qui con solidox e ho disegnato l'evolvente dell'ellisse però però c'è un grosso però nel senso che non è parametrizzata cioè in parole povere sono riuscito a farla solo con valori perché l'ho trovata su internet ok solo con i valori di a uguale a 1,5 b uguale a 1 l'evolvente ha una parte dell'ellisse ha una funzione di una risoluzione di un integrale se non ho capito male ellittico dunque e allora in pratica in questo foglio che ho trovato in questo pdf che ho trovato va con un'approssimazione di furie su quella funzione lì però è ad hoc cioè coefficienti di furie non sono parametrizzati con a e b e dunque alla fine posso farlo la sfortuna è quella che non ho trovato la forma di quei coefficienti lì e generale va beh però non è che vabbè quello sì però la volata d'entrata si può farlo anche in un altro modo l'altra cosa che volevo sottolineare che poi mi sono accorto dopo è che quelli valori di a e b non possono essere perché io ipotizzavo che questo il primitivo però l'evolvente non può partire dal primitivo deve partire dal base e dunque l'altro errore da tenere se uno riuscisse a trovare comunque i parametri questa approssimazione di furie bisogna però stare attenti che a e b devono essere riferiti alla base alle liste di base perché sennò come si fa ecco è semplicemente quello lì e dunque la e poi la terza è che a questo punto l'elisse cioè l'evolvente qui bisognava stare se uno riuscisse poi a trovarla completamente parametrizzata bisognerebbe capire come farlo per gli altri denti cioè è la stessa però come andarla a ruotare e dunque ecco bisogna bisognerebbe comunque oltre a quella difficoltà enorme di avere i coefficienti l'approssimazione di furie sarebbe anche queste altre due tre problematiche che ci sono va bene era semplicemente per ricordarmi per sapere si può l'evolvente c'è difficile si può implementare in solido ma bisognerebbe avere qui con un'approssimazione bisognerebbe avere poi quella con i coefficienti parametrizzati su a e b sui semi assi perché questa qui è solo per nel caso di un'ellisse o cioè almeno io per adesso ce l'ho solo su un'ellisse con semiasse maggiore 1,5 e semiasse minore di 1 vabbè ok dunque alla fine questa è evolvente con l'equazione semi cioè l'ellisse scusate l'ellisse con solido se faccio con l'equazione posso far solo metà poi specchierò questo è l'evoluta cioè il luogo dei punti dei centri dei cerchi le circonferenze osculatrice le circonferenze osculatrice e questa qua è l'evolvente purtroppo mentre l'evoluta e parametrizzata si riesce taxi aggiorna si modifica come vuole come l'ellisse questa qui non sono ancora arrivato al completamente parametrizzata vabbè spero di è stato utile ci vediamo alla prossima vi vederci